Ciao ragazzi! In questo video parliamo del determinante di matrici 2x2. Partiamo da un esempio. Consideriamo la matrice A 2, 5, meno 3, 0. Per calcolare il suo determinante si va a svolgere il prodotto degli elementi che stanno sulla prima diagonale, quindi 2x0, e si va a sottrarre il prodotto degli elementi che stanno sulla seconda diagonale, quindi svolgiamo meno 5x-3. Globalmente otteniamo 0 più 15 uguale a 15. Generalizziamo questo procedimento per una qualsiasi matrice quadrata A di dimensione 2x2. Scriviamo la matrice A come la matrice in cui ritroviamo l'elemento A11 e A12 sulla prima riga e A21 e A22 sulla seconda riga. Il determinante di A è allora definito come A11 per A22, quindi il prodotto della prima diagonale, meno A1 per A21, cioè il prodotto della seconda diagonale. Osserviamo che se andiamo a scambiare tra loro le righe oppure le colonne della matrice, il segno del determinante cambia. Ad esempio, andando a scambiare tra loro le due righe di questa matrice, otteniamo che il determinante di A11, A12, A21, A22 è esattamente meno il determinante della matrice A21, A22, A11, A12. Vedete quindi che stiamo considerando la stessa matrice in cui abbiamo scambiato l'ordine delle righe. Calcoliamo i determinanti. Nella prima ritroviamo, svolgendo la prima diagonale, A11 per A22 meno la seconda diagonale A12 per A21. Questo è uguale all'opposto del determinante di questa matrice. Infatti svolgiamo la prima diagonale A12 per A21 meno la seconda diagonale A11 per A22. Vedete perciò che abbiamo cambiato il segno al determinante. Cerchiamo però di capire che cosa significhi, da un punto di vista geometrico, il determinante di una matrice 2x2. Il determinante calcola il valore dell'area del parallelogramma che ha come lati i due vettori V, A11, A12, cioè il vettore dato dalla prima riga della matrice. Nell'esempio che stavamo studiando è il vettore 2,5. E secondo vettore, W, A21, A22, cioè il vettore dato dalla seconda riga della matrice. Nel nostro esempio è il vettore meno 3,0. Il parallelogramma di cui stiamo parlando è perciò questo. E il determinante ci dà esattamente la sua area, che sappiamo si ottiene svolgendo la formula base per altezza. Nell'esempio che stiamo studiando è particolarmente facile, perché la base vale 3, mentre l'altezza vale 5. Ritroviamo perciò che l'area è data da 3x5 uguale a 15, esattamente il determinante della matrice che abbiamo studiato. Consideriamo adesso il caso in cui i vettori V e W siano tra loro multipli, cioè siano tra loro linearmente dipendenti. Ad esempio consideriamo V il vettore 2,4 e W il vettore 1,2. In questo caso osserviamo che il parallelogramma che essi formano è degenere, cioè la sua area è uguale a 0 e il determinante della matrice V e W è nullo. Consideriamo infatti la matrice associata a questo esempio e quindi la matrice 2,4,1,2. Svolgendo il determinante otteniamo il prodotto della prima diagonale, 2x2, meno il prodotto della seconda diagonale, 4x1. Otteniamo perciò 4-4 uguale a 0. Possiamo applicare quanto abbiamo appena visto per andare a calcolare l'area di un triangolo di vertici A, B e C. Infatti l'area del triangolo è la metà dell'area di un parallelogramma che ha due lati congruenti a due lati del triangolo. Se andiamo perciò a considerare i lati AC e BC vediamo che questi sono descritti dal vettore V dato da A-C e dal vettore W dato da B-C. L'area del triangolo è perciò data da metà dell'area del parallelogramma, cioè un mezzo, valore assoluto, il determinante della matrice che ha sulle righe i vettori V e W. Vediamo un esempio e consideriamo il triangolo di vertici A, 3-2, B-1, 2 e C-4-3. Usando la formula appena data andiamo a trovare prima di tutto il vettore V dato da A-C. Svolgiamo perciò 3-2-4-3 ottenendo 3-3-7 e-2-3-1. Abbiamo perciò il vettore 7-1. Analogamente consideriamo il vettore W dato da B-C, cioè meno 1-2 meno meno 4-3. Otteniamo meno 1 meno meno 4 e quindi 3 e 2-3 e quindi 5. Il vettore W è dato perciò da 3-5. Andiamo perciò a calcolare l'area del triangolo, data da un mezzo, valore assoluto del determinante della matrice 7-1-3-5. Otteniamo perciò un mezzo, valore assoluto di 7 per 5, il prodotto della prima diagonale, meno 1 per 3, il prodotto della seconda diagonale. Abbiamo perciò un mezzo, valore assoluto di 35-3 e quindi 32 mezzi, che è uguale a 16, il valore dell'area del triangolo di vertici ABC. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire il significato del determinante di matrici 2x2. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e iscrivetevi. A presto!